Detto ciò vi faccio sentire qualche canzone, mentre ve le faccio sentire potete o ascoltare le parole o altrimenti andare con la fantasia, l'importante è che il compito del cantautore è quello di trasmettere delle emozioni, delle sensazioni, non necessariamente autobiografiche. Quindi, incominciamo e visto che qua ci sono gli innamorati, volevo fare una canzone che magari è dedicata a chi magari ha dei progetti seri.